In 4.200 finirono internati nei campi di concentramento, 1.600 di questi morirono, 370 dei quali per esecuzione sui 35.000 presenti all'epoca complessivamente nei paesi occupati dalle forze tedesche. Tra le milioni di vittime prese di mira dal regime nazista ci furono migliaia di testimoni di Geova perseguitati per la loro fede. Nell'ambito della giornata della memoria viene ricordato anche il loro sacrificio. Conosciuti all'epoca come studenti biblici furono gli unici ad essere perseguitati dal Terzo Reich, unicamente per la loro fede religiosa e per il loro aperto rifiuto di accondiscendere anche agli aspetti più marginali del nazismo, contrari alla loro professione di fede. Politicamente neutrali, per i testimoni di Geova era impensabile partecipare ad azioni razziste o violente o persino arruolarsi nell'esercito. Nelle pubblicazioni che facevano regolarmente circolare parlavano esplicitamente di ciò che stava perpetrando il regime, compresa la persecuzione degli ebrei. Anche il saluto nazista per loro era inaccettabile. Su 2000 operai ero l'unico che non alzava la mano e non faceva il saluto nazista. Il problema si ripeteva tutti i giorni, perché avrei dovuto fare il saluto nazista e invece dicevo semplicemente buongiorno. Internati nei campi di concentramento anche i testimoni di Geova ebbero il loro segno distintivo. A partire dal 1937, ai testimoni fu dato come contrassegno un triangolo viola. Nei campi, i testimoni di Geova erano l'unico gruppo religioso che costituiva una categoria a sé. I testimoni di Geova erano sottoposti dalle SS a un trattamento particolarmente brutale. L'obiettivo era quello di annientare questo gruppo religioso. In Germania non dovevano più esserci testimoni. I nazisti cercarono di infrangere le convinzioni religiose dei testimoni, offrendo loro la libertà in cambio di una promessa di obbedienza. Una possibilità che passava attraverso la dichiarazione di Abiura, che richiedeva al firmatario di rinunciare alla propria fede e denunciare altri testimoni alla polizia, sottomettendosi completamente al governo nazista e difendendo la patria con le armi. Una prospettiva allettante, accettata solo da pochi. Stavo per essere scarcerata, mi fu dato un foglio da firmare. Dovevo dichiarare che rinunciavo alla mia fede e che riconoscevo il governo tedesco come autorità suprema, che mi sottomettevo al governo di Hitler e che consideravo la Bibbia come falsa dottrina. Dissi, non se ne parla nemmeno. Quella dei testimoni di Geova sotto il tallone nazista fu una storia di resistenza e fede rimasta ai margini del racconto sul dramma dell'olocausto, una vicenda che sarà raccontata e approfondita nel documentario fedeli nonostante la persecuzione in onda stasera alle 21.30 su Sesta Rete.